aldo montano ha deciso di lasciare il grande fratello vip 6 ebbene sì l'amatissimo campione di scherma ha scelto di andare via e di evitare così il prolungamento in studio ha dato l'annuncio al pubblico e ad alfonso signorini già tutti immaginavano la reazione di manuel bortuzzo che era apparso con il morale a terra per il timore di vedere il suo amico lasciare il gioco ed ecco che solei sorge e jessica selassie hanno fatto ritorno in casa senza a questa è stata per loro una chiara conferma della decisione definitiva da lui presa manuel e giammaria antinolfi hanno iniziato a piangere entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime e ancora non avevano avuto conferma a questo punto alfonso signorini ha chiesto a bortuzzo di recarsi in mystery room qui ha trovato montano il quale gli ha annunciato di aver ormai deciso di andare via avendo avuto la notizia direttamente da lui manuel è scoppiato a piangere per lui non è stato comunque un annuncio inaspettato visto che già si sapeva che lo sportivo era propenso a lasciare il reality un momento questo che ha commosso la maggior parte dei telespettatori aldo è stato indubbiamente un personaggio davvero molto amato dal pubblico e in tanti speravano che scegliesse di restare la sua uscita è stata emozionante come ha fatto notare signorini il campione ha portato avanti un percorso limpido e pulito senza mettere in scena alcun teatrino sicuramente ha dimostrato di essere un grande esempio ma anche un importante sostegno per manuel un punto di riferimento e soprattutto un vero amico nella mystery room aldo e bortuzzo si sono scambiati un caloroso abbraccio il giovane nuotatore non ha trattenuto le lacrime e il pubblico a casa l'ha seguito lo sapevamo te sei forte la ragione per restare qua ce l'hai hai una luce diversa negli occhi rispetto a settimane fa lo sai ci siamo parlati la mia esperienza finisce qua sei meraviglioso sei manuel non è riuscito a dire nulla se non un grazie alfonso signorini ha mostrato delicatezza in questa circostanza non chiedendo al giovane gfino di commentare a questo punto il padrone di casa ha fatto entrare nella misteri anche gian maria antinolfi e katia ricciarelli gli altri due concorrenti con cui ha un rapporto speciale mentre con la cantante lirica aveva già instaurato un'amicizia diversi anni fa con manuel e giammaria è nato tutto nella casa di cinecittà a loro assicurato che questo è solo l'inizio anche antinofli si è lasciato andare con un pianto liberatorio forza che aldo è sempre qua ha dichiarato alfonso per dare forza a entrambi ma bortuzzo è apparso davvero distrutto per l'uscita del suo grande amico aldo montano ha così abbandonato il gf vip 6 grazie a tutti 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 grazie a tutti